Action! E ora che c'è, tesoro? C'è una persona qui. Dove? Alla porta. Salve. Salve. Mi scusi se la disturbo, sono qui alla casa accanto. L'ho vista prima al cancello. Ah, sì, certo. Prego, entri pure. Allora, che cosa posso fare per lei? Dì a tuo padre che si mangia tra dieci minuti! Va bene. Eve, voglio dire, la signora Thompson voleva sapere se ci può dare una mano. Sta cucinando e le sono finite le uova. Sì, ma certo. Quante gliene servono? Quattro. Quattro? Per cosa? Come dice? Per cosa? A cosa le servono le uova? Sì, insomma, che sta cucinando? Ah, non ne ho la minima idea. Santa, le va bene se gliele do così o le vuole nel cartone? Come preferisce. Come ha fatto a entrare? Da laggiù. Sono passato dalla parte del lago. Avrebbe dovuto bagnarsi. C'è un buco nel recinto. Dalla parte del lago, non dal lago. Fred mi ha... Cioè, il signor Thompson è lui che me l'ha fatto vedere. Ah, ho capito. Allora, è sicuro che vanno bene così? Sì, sì, certo. Così vanno benissimo. Grazie infinite. Si figuri. Grazie. Mi raccomando, mi saluti Eve. Le dica che non vediamo l'ora di giocare domani. Glielo dirò, grazie ancora. E ringrazio Fred e il suo amico per l'aiuto. Cazzo. Che è successo? Ah. Non è una tragedia.